Risiedono in Val di Sangro, ad Atessa e a Altino, i due romeni arrestati dalla squadra mobile di Pescara che devono rispondere di una serie di reati come sequestro di persona, violenza sessuale di gruppo e rapina. In manette sono finiti Gheorghe Cioanca, 35 anni, e Sorin Dragomir, 29. Le indagini sono iniziate a luglio scorso, dopo la denuncia di una giovane prostituta romena che aveva raccontato di essere salita a bordo di un'auto guidata da un uomo che le si era presentato come un comune cliente. La donna era stata subito presa a schiaffi, legata al sedile con la cintura di sicurezza e minacciata. Solo dopo essere stata immobilizzata si era accorta che all'interno del veicolo c'era un altro uomo sbucato improvvisamente dal portabagagli. Condotta in una stradina di campagna, la giovane era stata costretta a sottostare a rapporti sessuali con entrambi gli uomini, che infine le avevano anche sottratto 300 euro per poi abbandonarla in strada. Contestualmente alle indagini a settembre scorso, altre due prostitute romene, lo stesso giorno a distanza di un'ora l'una dall'altra, venivano sequestrate e violentate, una nel territorio di Silvi Marina e un'altra alla periferia di Pescara, con modalità del tutto simili a quelle denunciate dalla prima vittima. Partendo dai pochi elementi a disposizione, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei due supratori, uno dei quali ha anche in parte ammesso le proprie responsabilità. La vicenda scoperta dalla polizia, per quanto grave, poteva anche andare peggio, ha dichiarato il capo della mobile Pierfrancesco Muriana. Nel quarto caso, in via di approfondimento, la donna violentata e malmenata è stata poi gettata in strada e ha rischiato la vita. L'episodio è stato raccontato da altre prostitute e sono state proprio le vittime a collaborare e a dare impulso alle indagini, ragazze di gruppi criminali diversi che hanno fornito le menti di interesse investigativo. Decisiva la testimonianza di una prostituta che aveva segnalato alla polizia una parte di targa di una delle auto usate dagli Aguzzini. Cioanca, che da tempo risiede in Italia, parlava con un accento locale, anche dialettale. Importante, ha aggiunto Muriana, anche la collaborazione della moglie di Dragomir che ha costretto il marito ad andare a confessare in questura, anche se per uno solo degli episodi finiti sotto la lente di ingrandimento. Sì, indubbiamente il coraggio lo hanno avuto, anche perché partiamo dalla constatazione di un fatto molto elementare che sono per strada tutte le sere esposte, quindi già normalmente a continui rischi. Erano ovviamente interessate e determinate affinché fossero arrestati gli autori di questi gravissimi crimini. Le indagini della mobile di Pescara sono state coordinate dalle procure di Pescara e di Chieti. Quest'ultima è competente perché il reato più grave con la violenza sessuale di gruppo si è consumato a Francavilla al mare. Le indagini proseguono per ricostruire altri due casi di violenza nei confronti di altre prostitute. Sì, sappiamo per certo che c'è stato un caso di violenza che però non riusciamo ad attribuire ai due indagati perché la vittima non si trova, probabilmente è tornata in patria. E poi tra le ragazze, tra le prostitute, gira la voce che ci sia stata un'altra violenza che però non è stata denunciata. Ormai sono anni che siamo impegnati su questo fronte, del resto il 90% della prostituzione per strada ormai nelle mani di bande rumene, quindi è così.